quando due leader si incontrano accade qualcosa di importante è il caso di bt cesab nata per volontà di cesab e bt italia bt cesab si propone al mercato italiano della logistica come consulente globale e come partner per tutte le aziende con problemi di movimentazione merci con un prodotto ad alto contenuto tecnologico ergonomico stilistico bt cesab una sola realtà la forza di due leader